Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Il sistema calcio italiano continua ad attaccare la Juventus, a danneggiarla, a fargli del male e la Juventus si sta muta. E la Juventus non parla nessun comunicato, nessun che si presenta in conferenza stamba a dire come stanno le cose. Addirittura l'AIA sospende Di Bello e il Varista per non aver concesso il rigore al Bologna. E questo è il messaggio che è passato. Arbitro e Varista sospesi per non aver concesso il rigore al Bologna, quando sappiamo che la verità è ben altra, quando sappiamo che alla Juve mancano due rigori e un gol. Vedi? È lì che il nostro padron deve uscire fuori gli attributi e schiacciarli tutti. Andremo ad approfondire bene quello che è successo, parleremo della sospensione di Di Bello e tutta la colpa scaricata sul Juventus. Può anche darsi che sarà sicuramente una comunicazione a senso unico per attaccare la Juve. Iscrivetevi al canale perché sono sempre qui. Io sono qui per difendere la Juventus. Sono qui per difendere la mia Juve da tutti questi attacchi perché io riesco poi facilmente a sbucciardare chi vuole infancare la nostra Juventus. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perdrete mai un video e siamo sempre. Live, l'esito incedimento, madame, messia, signore e signori, mei signori, quelli veri, quelli gobi, piangonieri della vecchia signora. Rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. Parto da un presupposto. I dirigenti del Bologna si presentano in conferenza stampa protestando per un mancato calcio di rigore. E' vero che noi abbiamo lo stile Juventus, ma lo posso dire che dello stile Juventus mi sono rotto le scatole per non essere più volgare. Doveva presentarsi un dirigente della Juve, mettersi lì e dire le cose come stanno. Prima che il Bologna si lamenta per un mancato rigore, a noi ne mancano due con un gol regolarissimo. Questo non succede. Tutti attaccano la Juventus, in primis i giornali. La Juve ruba. Questo è il messaggio che è passato. La Juve ruba. Ma la verità lo sappiamo che è ben altra. Ma signori, mei, ma io o gli altri come me non bastano, non bastano per difendere la Juve. Deve uscire fuori la società con dei comunicati, oppure deve uscire fuori la società con i propri dirigenti, davanti ai microfoni, davanti ai giornalisti e dire qual è la verità. Che la verità è che il Varista e l'arbitro sono stati sospesi, non perché non hanno concesso un rigore al Bologna, perché alla Juve mancano due rigori nettissimi, molto prima di quel fallo di calcio di rigore. Che poi vi dico la verità, non c'è una telecamera, non c'è un'immagine, un video, dove si vede nettamente che il nostro giocatore colpisce il giocatore del Bologna. Di l'hanno costruito una storia, di l'hanno costruito un castello. Falso! Perché secondo me è falso, perché io voglio il video, voglio le prove, che quel rigore è netto. Invece cosa fa l'AIA? L'AIA già inizia a mortificare la Juventus. La FIGC, la Lega Serie A già iniziano, intanto partiamo col piede di guerra, dicendo che la Juve ruba, che quel rigore è netto e sospendiamo il Varista e l'arbitro. Così, durante l'anno, se faremo dei danni alla Juve, cosa dirà l'opinione pubblica? Eh, ma la Juve ruba, ricordate Bologna. No, signori miei, tifosi della Juventus, i miei video li dovete condividere, perché dico la verità, dovete condividere e diffondere i miei video. Perché la verità non è che l'arbitro di Bello deve essere sospeso per il mancato calcio di rigore al Bologna, deve essere sospeso perché rigore alla Juve ne mancano due. E il gol di Bologna era regolare perché il rabbiò non influivo assolutamente sul gol. Il portiere non era assolutamente disturbato perché il portiere quella palla l'ha parata e gli è scappata. Che sia chiaro, l'ho spiegato ieri, in un video dove facevo vedere delle azioni, dei gol convalidati, dei rigori concessi, ovviamente poi contro la Juve tutto cambia. La verità è che l'opinione pubblica non cambierà mai contro la Juve perché è la stessa società della Juve che non vuole che l'opinione pubblica cambi. Perché la verità è solo una, che oggi è passata il messaggio la Juve ruba, il Bologna è danneggiato, questo è il messaggio che è passato, questa è la mia rabbia, questo è quello che dovrebbe cambiare la Juventus, la Juventus dovrebbe cambiare proprio l'opinione pubblica, facendo capire che siamo stanchi e stufi, specialmente noi tifosi. Perché noi tifosi veniamo da una partita giocata pessima dalla squadra, da una prestazione pessima del nostro allenatore, perché c'è poco da dire. Qui non si tratta solo che sbagliano gli albi dell'opinione pubblica, qui abbiamo un allenatore che a oggi si sta dimostrando ancora una volta purtroppo incompetente. C'è poco da fare. Il non gioco oggi si è rivisto. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante, che prima che cambiamo noi stessi, devono cambiare gli altri contro di noi, deve cambiare l'opinione pubblica, deve cambiare il nostro patron, e far sì che queste cose non succedano più. Far passare un messaggio che non è. L'arbitro di Bell e il Varista non vengono sospesi perché manca un rigore al Bologna, perché ai rigori forse ne mancano tre, uno al Bologna e due alla Juve, ma quei due alla Juve mancavano. Prima di quel rigore, che poi poteva diventare anche un influente. Ci manca un gol. Questo è il messaggio che deve passare. E non quello che scrivono i giornali, e non quello che vuole comunicare l'AIA, l'associazione italiana arbitri. La FIGC, la Lega Serie A. Signori miei, prepariamoci un altro anno di guerra, perché ci attaccheranno frontalmente, perché ci vogliono ancora distruggere, perché ci vogliono tenere fuori dall'Europa per due o tre anni. Se non l'avete capito è questo qua. Perché mi viene un dubbio. Se l'arbitro voleva avvantaggiare la Juve, voleva avvantaggiare la Juve, il gol di Vlaovic il primo lo convalidava. Da lì bisogna capire che è tutto un imbroglio. Vedete contro l'Opione pubblica come il Rema contro la Juventus? Ma se noi abbiamo l'arbitro a favore, volevamo rubare. Intanto ci dava il gol di Vlaovic, ci fischiava il rigore su Chiesa, ci fischiava il rigore, fallo di mano sul tiro di Guea, la Juve andava a 3-4 golli, dava il rigore al Bologna, a 4-1, 4-2. Invece no. L'arbitro a 0 a tutto, visto che il Bologna era in vantaggio, facciamo passare il messaggio che la Juventus ruba. Ci sono riusciti tutte le testate giornalistiche, tranne tutto sport. Perché voglio ricordare, quando parlo di testate giornalistiche, l'unico che difende la Juventus è tutto sport. Che sia chiaro. Ora, signori miei, siamo di nuovo in guerra contro il sistema calcio. Purtroppo, ora stanno facendo passare questo messaggio, che la Juve ruba. Bene, io invito il nostro Presidentissimo a svegliarsi, a mandare gente in conferenza stampa, a far cambiare l'opinione pubblica, ma non cambiarla perché vogliamo negare la verità, perché noi vogliamo la verità, e la verità oggi è un'altra. Che sia chiaro, il barista e l'arbitro di Bello sono stati sospesi perché mancano tre rigori e un gol. Due rigori della Juve e un gol e un rigore al Bologna. Questa è la verità. Non è quella che scrivo nei giornali, non è quella che vuole far sembrare né la FGC, né la Lega Serie A e né l'AIA. Signori miei, ve lo dico e ve lo ripeto sempre, se questo video è stato di vostro gradimento, iscrivetevi, sostenetemi, perché dobbiamo sempre difendere insieme la Juve, e condividete questo video, divulghiamo qual è la verità. Perché la Juve e la Juve e tutto il resto, signori miei, è buio questo. Fino alla fine, forza, Juventus e Jimi Nevaio, o sabine che a tutti i picciotti, ciao!